Musica Hai sentito? Eh, viene da buona mano a me Muovi un po' le foglie Alessandro Ok Azione Ah, cazzo, non mi avevi detto che era finito Ah no Ah no Però non torna indietro No, non deve tornare, quello è un boomerang Ah no, vedi c'è un boomerang Un boomerang e un fagionista Facci vedere Allora, sono solo due colpi di prova Quando vuoi Paolo Vai Bello, bello, si Va bene, allora confermato che ci stanno sti sparifoli Spari Stop Spara Spara Stop Eh, un po' di a basso Capri Capri è arbitra Ecco così, così Questa è la posizione delle mani, eh Gabriele, basta un po' più la teola Ecco, così Ok, perfetto, rimanete così Pronti Buona Vai Buona Azione 3, 2, 1 Sparate Molto Un po' di a Un po' di a Un po' di a Sì, 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 sì. No, 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 no. Quando bisognava togliere di mezzo qualcuno ci pensava sempre lui, il nostro Tony, ma è uno scrupolo. Per me è buona, ansimate, ansimate, cominciate a caricarvi, ansimate, ancora, ancora, azione. In base a quello, poi se c'è qualcuno che ha una bandiera così che la muove un po' dalla parte, lo muovi tu. Lui deve girare la testa verso gli attori che stanno camminando. E quando lo arrivano gli attori tu gli muovi la cosa, però non gli muovi prima la muove un guanto. Vai col guanto, vai col guanto. Stop. Stop. Ci siamo qua. Gira di gufo, girati. Capolavoro. Stai. Bellissimo. Perfetta. Stai da nascarare a sto gufo. Bravo. Una volta ho fatto così ho trovato l'acqua. L'ho rotto un tubo. Dopo quante ore che scavavi? Ma quanto ti fa dare la macchina? Ma se è meglio arrivare. Stai ragazzi è qui il regista che sta scavato in panasera, se le frigate non troviamo più niente. Non prendono l'acqua. Sì, sì. Cioè ci vuole proprio un quarto d'ora. Pure qua, qua. Qua ce ne vuole una. Bisogna la giornalità di far bucone una. No ma sai cos'è? Che immagino. Beh, io li agito con il tetto. E' caldo, è caldo. Ma è come i classi. Non è che bravo. Azione. Peppino. Peppino. Top. E' caldo. E' meglio. Basta che c'è. Che mi hai deciso? Ci abbiamo messo una comitata. Prendiamo la compagnia. 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 la sua direzione come diranno e nessuno non so non so non so non so non so non so non 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 stop! bella! bella bella! io non smetto bene quando me lo dici dove che sono messi? non fermati! non fermati! vanno a complicare! si ferma le tue! azione! piacere sono franco provietti bella! bravo e finito! no! stop! stop! azione! bella! stop! stop! vai! prima tu! azione! vai vai butta 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 sangue ragazzi da domani per favore tutte le mattine dobbiamo prendere un po' di sangue ognuno fa andare avanti col film eh! sennò si ferma! scegliamo? vogliamo fare meglio gli altri? un gruppo sanguinico! ah io son microciternico quindi è nulla! dai pronti! vai! no! non là! sopra! sul cosunino! sul nero! sul nero! vai! tanto! 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 basta! vai! panoramica! ok! rifacciamola con piombino! piacere! son franco proietti! piacere! caligola! ciocno! 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 ha! belle buttarelle è possibile, è forte è forte? è forte azione Maria 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 Non c'è il G5 perché ci hai delle spalle, quindi devi ripassare in questa parte delle spalle. Stop! No, adesso non su, non su, non su, non su, non su. Ok, non su, non su, ok... Da qua... Qui agga un campo finito... Dopo... E va via... Vai... Testata... Ok sulla destana aiutalo! Azione! Stop stop! Sperate di silenzio per favore e... Motore! Capito! 5, 6, 4! Ciao! Guarda! Può vedere neanche come facciamo all'inizio adesso! Dritto? Si si so! Faccio il buonare! Guarda! Azione! Non si mirate qui! Oh! Ah! 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 Facciamo la testa stopà, e sicurezza, azione! Tocca che cosa? 5.14 prima! Tocca che c'è! Tocca! Tocca che c'è! E' il italiano del mare! Grazie. Grazie.